Perché Dio ha inviato Gesù nel mondo? Il brano di questa domenica è molto denso, dice molte cose importanti da far entrare bene nel nostro cuore. Tra tutte, una mi piace immensamente. Dio non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo si è salvato per mezzo di lui. Ecco perché Gesù? Per salvarci, per darci la vita, per darci la vita eterna. Questo è l'obiettivo di Dio. Il suo scopo non è quello di punirci, di farci star male, di lasciarci nel dolore, ma è quello di salvarci. E noi, cosa dobbiamo fare? Accogliere Gesù. Accogliere Gesù nella nostra vita. Non fare come quelli che di fronte alla luce scelgono il buio, o quelli che di fronte al bene scelgono il male, o di fronte alla fede scelgono la paura. Ma scusate, non è bellissimo pensare che l'obiettivo di Dio è quello di salvarmi? A me piace tantissimo. Buona settimana! A me piace tantissimo. Buona settimana! A me piace tantissimo. Buona settimana!